Questo video riguarda i migliori tre crepiere elettriche. Il vincitore della qualità è il Duronic PM152. La crepiera Duronic PM152 è dotata di una grande piastra da 37 cm, per preparare crepes piccole o grandi in pochissimo tempo. La piastra antiaderente riscalda velocemente grazie ai 1500 W e può raggiungere una temperatura fino a 210 gradi centigradi. Il selettore di potenza consente di adattare la temperatura cottura in base allo spessore e tipologia d'impasto. Per la preparazione di pancacche, è consigliato una temperatura bassa, in modo che l'impasto abbia il tempo di cuocere senza bruciare. Si consiglia di pulire la piastra dopo ogni utilizzo. La piastra della crepiera PM152 è rimovibile, facilitando e velocizzando in questo modo la pulizia. La crepiera viene fornita con tutti gli accessori utili per la preparazione delle crepes. Sono inclusi un mestolo per versare la quantità giusta d'impasto per la preparazione di crepes e pancacche. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è i Star Blue Macchinetta per crepe. La nostra piastra di cottura è costruita in alluminio alimentare di alta qualità, completamente sicuro e affidabile per un utilizzo a lungo termine. La superficie liscia e antiaderente ti permette di provare fantasiosi modelli di crepe e rende il cibo facile da girare senza problemi. La piastra da 1000 W fornisce una potenza elevata per permetterti di cucinare piatti deliziosi in poco tempo. Con la nostra macchina per la crepe elettrica e il suo ampio piatto da 30.5 cm, puoi preparare i pasti per tutta la tua famiglia come un professionista. A differenza di altri produttori di crepe, la macchina per crepe Star Blue è dotata di un distintivo interruttore on-off per garantire una cottura sicura. Grazie alla superficie di cottura antiaderente, la nostra macchina per la preparazione di crepe richiede una pulizia minima. Il vincitore del premio è il Gheggi Crepiera Elettrica. Prepara a casa le tue crepe e pancacche con questa crepiera elettrica. Potrai personalizzarle come vuoi. È più facile e divertente da usare rispetto a una normale padella da crepe. La span di pastella inclusa in legno ti aiuterà a spargere uniformemente la pastella. Usa invece la spatola in legno per sollevare e spostare le crepe. Grazie alla piastra in alluminio con rivestimento antiaderente, le crepe non si attaccheranno e potrai pulire la crepiera in tutta comodità. Perfetta da utilizzare a colazione, pranzo, cena e dessert. Ogni momento sarà una festa. La manopola regolabile ti permetterà di scegliere la temperatura più adatta a una doratura perfetta, mentre l'indicatore verde ti dirà quando la crepiera è pronta all'uso. Potrai sperimentare diverse ricette. La crepiera è perfetta per preparare uova, tortillas, blini e pancacche americani. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.